Intanto vi chiediamo, vi è piaciuto il finale di Shingeki no Kyojin? Sì o no? Un secco... Sì, sì. Una risposta secca. Giusto per riscaldarci, ecco. Sì, sì, sì. Cioè, se vuoi una risposta secca, sì. Poi, adesso argomentiamo. Sì, per dire alla bolognese, Schott's Mel. Cioè, per me è stato fantastico. Ah. Tantissimo, sì, sì. Noi invece, all'epoca, quando è uscito il manga, siamo stati un po' critici, chiaramente. Siete tra quelli, perché so che c'è stata una civil war importante nel fandom quando è uscito l'ultimo numero, il capitolo 139, quindi mi avevano detto, io non me l'avrò spoilerato, però avevo visto che c'era gente che si bastonava moralmente sui social. Guarda, sulla divisione di cui parli tu, io penso che noi non possiamo collocarci, perché comunque, secondo me, dipende molto dalle argomentazioni. Nel senso, dipende da come argomenti il sì o il no. Quindi, per me, poteva essere un sì o un no, ma assolutamente, insomma, dipende da quello che direte poi, insomma. Ecco. Certo. Perché, per esempio, andando a parlare delle nostre motivazioni, molto spesso andavamo più dalla parte di quelli a cui il finale era piaciuto, perché poi la civil war consisteva in quelli che o lo difendevano a spadatratta oppure lo insultavano senza alcuna ragione. Quindi, questi soggetti si possono trovare anche dopo il finale dell'anime, ci sono tanti persone che sono rimasti scontente. Io, per una cosa che ho pubblicato l'altro giorno, ho bazzicato un po' su Reddit, per esempio su Titanfolk, sono... è pieno di robe, di gente che critica ancora il finale. Sebbene poi l'anime l'abbia migliorato notevolmente, secondo me, il finale del manga, o meglio, cioè ci sono alcuni aspetti del finale del manga che vengono molto alleggeriti dal finale dell'anime. Ma partiamo dalla prima argomentazione che ha spaccato un po' il pubblico, no? La trama, direi. Sì, più che altro l'argomentazione che ha spaccato il nostro parere all'epoca. Nel finale ci sono diversi buchi di trama. Non so se le avete notate. Ah, intanto eravate anime only, quando avete visto il finale, o avevate... Victor sì, lo so già. E la Svet? Io praticamente ho visto solo l'anime, perché in generale io con i manga ho un rapporto un po' strano, nel senso che sono molto propensa a leggere manga, però manga che siano finiti, perché io ho il trauma di Nana. Ok. Io leggo i manga soltanto quando so che c'è un finale. Quando so che c'è un finale, li leggo. Se non sono ancora finiti, non li leggo. Nell'attacco dei giganti ce ne sono molteplici di finali, direi. Adesso so. Adesso ok. Però prima... Un po' così. Allora, io ero sì, appunto, anime only, perché mi ero ripromesso di leggere... Allora, io il manga ero... Allora, ero anime only quasi del tutto, nel senso che quando uscì in Italia l'attacco dei giganti di tutta la planet manga, lessi i primi Tankomon, i primi, credo, tre volumi, poi lo abbandonai, ma non perché non mi stesse piacendo, ma perché in quel periodo ero un po' incasinato, avevo un po' di cose da fare, poi tra l'altro è stato parecchio tempo fa, quindi non l'avevo continuato e ho iniziato l'anime durante la pandemia. Quindi mi sono avvicinato relativamente di recente e quindi non avevo... Sono riuscito tra l'altro miracolosamente ad arrivare senza spoiler al finale. Abbiamo fatto forse un micro spoiler, ma era una cosa veramente proprio... cioè non era niente che mi rovinasse l'esperienza ed è stata l'unica cosa che sono riusciti a dirmi perché ci hanno provato, ma io ormai ho un filtro spoiler incorporato negli occhi. Nel momento in cui avremo un messaggio e leggo tipo, non so, Reiner, boom, cioè mi si disattiva le cupille e capisco subito che è uno spoiler e non vado oltre, capito? Quindi sono riuscito a evitarli e per me è stata una grande esperienza perché più che altro io l'ho legata molto alle live. Io l'ho visto tutto in live, non l'ho mai visto al di fuori della live. Sì, sì, ho rivisto poi per conto mio. Però in prima visione ero sempre in live ed è stata una bella cosa perché comunque è stato un viaggio che ho fatto con gli utenti. C'era sempre tantissima gente, mi stupiva perché anche in finale l'ho dovuto recuperare il martedì perché eravamo a Lucca, di notte, quindi verso tipo mezzanotte. Eppure c'era tantissima gente proprio perché volevano rivederlo con me. È stata una bella esperienza. Cioè io ho avuto questa cosa di guardarlo col pubblico che me l'ha forse fatta amare ancora di più come storia. Sì, sì. Sì, poi dopo di questa chicca provrò tu svetto. No, 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 no. Prima voi se volete. Ok, cioè velocissimamente c'è questa chicca. Nel volume 34 una delle aggiunte è stata una gag di Isayama. Isayama alla fine del volume era sempre delle gag. Nell'ultimo volume c'era questa... c'erano Eren, Mikasa ed Armin nella versione gag che andavano al cinema a vedere il finale dell'attacco dei giganti. Alla fine parlano di come e dell'esperienza che hanno avuto. Armin diceva non avete visto le teorie voi chiaramente non mi è potuto piacere questo finale. Mikasa invece lo difendeva ed Eren diceva vabbè ma quello che conta non è tanto il finito ma che l'abbiamo vissuto insieme. Questa cosa me l'ha detta io non la sapevo me l'ha spiegata Caverna insieme a Masullo l'altra sera che sono stato sul canale di Caverna per parlare del finale anche lì notturna e io non l'ho vista questa cosa magari è una cosa carina però ti giuro quando me l'ha raccontata mi ha un po' cringiato. Mi ha detto vabbè sembrava una immagino una battuta una cosa una cosina che aveva fatto così extra sì sì è alla fine del volume finale ma alla fine dei volumi fa sempre queste ma è un fumettino è un fumettino a parte che lui fa è una sì sì sono due tavole sono due tavole fa sempre alla fine dei volumi però ha descritto perfettamente secondo me la situazione anche del fan sì 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 da dire che quelle due tavole le ha fatte dopo aver visto le reazioni della gente e che mi hanno detto che all'epoca lui ci rimase molto male perché non si aspettava una roba del genere non so se questo sia vero io credo che il problema grosso sia che chiudere un'opera soprattutto una serie che sia un anime che sia una serie live action è sempre molto difficile è difficilissimo trovare un finale che metta d'accordo tutti credo che ci siano riusciti solo con Breaking Bad e Better Call Saul perché tutti gli altri finali di serie che siano anime eccetera hanno sempre scatenato le ire o la gioia o l'ire insieme di buona parte del fandom io ricordo ancora c'è gente ancora oggi che detesta il finale di Lost che per me è un finale fantastico però io sono di quelli che lo difenderanno sempre a spada tratta però fu un finale molto divisivo e a me ha ricordato un po' quella situazione questo finale di Attack on Titan perché io vedo che ancora a distanza di anni le persone rimangono sulle loro posizioni ferme ad affilare i coltelli sì in effetti è una situazione del genere eh sì sì ma quindi voi i trama non ne avete trovati all'interno della parte anche avendo fino alla fine allora io ho un problema grossissimo che ha anche caratterizzato la mia avventura con Attack on Titan perché anche io l'avevo proposto in live ed era anche bello poterlo guardare con che tra l'altro non voglio dire una fesseria però avevo ricominciato a vederlo che eravamo ancora più o meno in pandemia e quindi c'era un po' quella situazione di vediamoli insieme a nel mio caso dei follower tra i miei follower c'erano anche degli amici che magari mi spiegavano anche le cose che erano diverse dal manga tutte le varie differenze eccetera eccetera e quindi era bello cioè l'esperienza in sé io me la sono goduta e mi era anche piaciuta i problemi sono arrivati per quanto mi riguarda con la quarta stagione perché allora in generale con i loop temporali si creano sempre macelli vuoi mettere i loop temporali vuoi mettere realtà alternative i macelli si creano sempre e non è che io ricordi dei buchi di trama macroscopici che mi hanno fatto pensare vabbè sì ciao i problemi veri non li ho riscontrati tanto in quello perché io sono una fan di Doctor Who chi conosce Doctor Who sa che la sospensione dell'incredulità la devi avere bella spessa e io ce l'ho esiste cioè e l'ho utilizzata anche in questi casi quindi mi andavano bene anche certe certe cose che potevano essere considerate dei difetti le cose che non mi sono andate giù sono tutte relative ai personaggi e sono per lo più concentrate nella prima parte della quarta stagione che mi hanno o stravolto o hanno approfondito pochissimo alcune dinamiche che ci sono fra i personaggi e alcune caratterizzazioni che a un certo punto diventavano quasi spiegabili o schizofreniche una in particolare potrebbe anche essere paragonata a Daenerys che impazzisce out of the blue in generale però in questo caso al contrario in realtà cioè qui non c'è nessuno che impazzisce ma piuttosto qualcuno che dice ma pensi dai siamo tutti amici che è una cosa che a me ha dato enormemente fastidio poi magari la approfondiamo più avanti il problema serio per me è stato quello ed è stata la cosa che nella quarta stagione mi ha fatto pensare no vabbè ok basta tanto è che quando sono usciti i film successivi i finali successivi io ci ho messo un po' a recuperarli perché ero talmente incazzata con determinate scelte narrative che non tornavano e in particolar modo io ce l'avevo tantissimo con un personaggio che aveva una plot armor inspiegabile grazie a dio me l'hanno levato di mezzo che davvero non avevo più voglia di andare avanti grazie a dio ho recuperato le ultime puntate e l'ultima puntata che comunque si sono hanno in un certo senso mi hanno riportato ad avere determinate emozioni che avevo provato quando avevo cominciato la serie cioè era tanto tempo che non mi fissavo così tanto con un anime ma non fai nomi ah Annie come hanno gestito Annie prima di tutto Armin che deve decidere ancora che caspita fare quando cioè Armin è in continua formazione grazie a dio arriva al suo punto di formazione totale nell'ultima puntata però te lo fanno sempre sembrare uno che ha capito tutto in realtà non ha capito una fava questa cosa viene aggiustata nel finale e infatti mi ha fatto piacere però non hanno aggiustato la questione di Annie che non funziona Flock l'hanno fatto morire perché aveva rotto le palle posso dire le parolacce oddio scusate no penso di sì le palle io so che il personaggio preferito di Victor Flock ma in realtà ma in realtà questo vuol dire che è un bel personaggio e no e invece no perché a un certo punto lo mantengono in vita lo mantengono in vita perché sì cioè doveva morire una vita prima no però questo lo spiega lo spiega Eren però dai questo lo spiegano aveva un ruolo però onestamente aveva un ruolo sì tirata come cosa cioè a me quella cosa non mi ha fatto minimamente impazzire che poi l'hanno tenuto fino alla fine ed era una roba forzatissima però la cosa più grossa per me è capitata a Danny lei che viene che subisce questa sorta di disgelo e improvvisamente no tutti amici tutti best friend era uno di quei personaggi che pur non essendo in scena era interessante e me l'hanno rovinato così diventando praticamente di contorno doveva essere figo il fatto che loro non so se nel manga poi è così tra l'altro hanno trattato alla stessa maniera però sarebbe stato bello vedere come il gruppo dovesse accettarla di malavoglia perché di base per causa sua sono morte un sacco di persone invece no no dai vieni a mangiare la torta no no di base no poverina lei ha fatto quello che ha fatto non per colpa sua però fammelo vedere che lei ritorna fra i suoi amici ritorna a legarsi ai suoi amici con fatica io quella cosa l'ho detestata mi ha fatto veramente tanto arrabbiare e il problema è che più avanti più avanti questa cosa è lasciata così lei è un personaggio anche ai tempi del manga il 126 che è il capitolo in cui succede questa cosa in cui sono tutti insieme è stato piuttosto criticato no è una cosa che mi rende triste perché era uno dei miei personaggi preferiti e ripeto funzionava anche se non era in scena perché era importante per i fini della storia ed era veramente bella era veramente bello come personaggio anche in storia in storia poi si parla di parecchie puntate fa una volta che ha finito il suo scopo basta uno che doveva essere uno dei personaggi più importanti e che è effettivamente una delle colonne portanti della storia di Attack on Titan di Shingeki no Kyojin boh va bene ok facciamola ingravidare e lasciamola lontano il più lontano possibile da noi nonostante sia quella che di base ha scatenato il casino infatti da questa storia ho imparato che non bisogna toccare storia se no succedono i casino se conoscete una che si chiama storia non la toccate per amor del cielo poi ripeto io parlo da profana io non ho letto il manga quindi magari tanti pezzi che sono stati spiegati male nell'anime sono spiegati benissimo nel manga no in realtà no non è la differenza tra anime e manga non è tanto sul dare spiegazioni o meno su cose e su cose più sottili che però comunque in qualche modo qualche volta addirittura è l'anime ad ampliare il manga a dare più informazioni rispetto al manga di base io preferisco la regia del manga ma comunque una cosa che hanno in comune invece anime e manga è la questione degli hacker ma non so se ne avete sentito parlare ma là c'è un bel buco di trama voi come avete vissuto questa cosa? secondo me più che allora sai cos'è è una di quelle robe che più che un buco di trama devi darti un attimino tu la spiegazione volendo la spiegazione c'è effettivamente ci sono io più che di buchi di trama ho trovato delle cose magari spiegate un po' così tipo una cazzata che però me la son chiesta quando si può fare spoiler? sì io chiedo perché lei comunque non è entrata troppo sì volevo dire questa cosa qui perché magari è meglio spiegare cosa si intende per il buco di trama degli hack allora vuoi spiegare? o spiego io? no no vai tu vai tu quando Eren va a parlare con Mikasa e tutti gli altri cancella le memorie del dialogo però non può farlo non potrebbe farlo questo con Mikasa perché lei è un Huckerman e quindi non il potere del gigante fondatore non può andare a influenzare le memorie degli Huckerman è questo il buco di trama io me la sono spiegata come che prima di essere un Huckerman è un eldiana questa cosa funziona sugli eldiani e quindi è come se avesse una cosa di priorità rimane una forzatura o è una forzatura o è un buco di trama quindi comunque o è una cosa che non mi spiega una cosa narrativamente non bella questa è una cosa che comunque diciamo lì per lì quando ho letto il finale insomma io sono rimasta abbastanza male anche perché poco prima c'era stata un'intervista dell'editor che ha decantato Isayama per la sua coerenza narrativa tra l'altro non so se lo sapete però nella rivista nella rivista in cui ha pubblicato Shingeki il Best Satsush nel magazine quando uscì il capitolo 139 nello stesso nello stesso numero all'inizio della rivista c'era il capitolo un capitolo a colore di Shingeki che era quello in cui veniva detto la prima volta che le memorie degli Ackerman non potevano venire toccate dal gigante progenitore questo è effettivamente un problema su quello niente da dire però ad esempio c'è anche un'altra cosa che non è una cosa così importante però un attimino quando fanno crollare il corpo di Eren quello scheletrico lui poi torna sotto forma di colossale ed effettivamente io ho pensato ma questo come cazzo ha fatto a diventare un colossale effettivamente non ha molto l'arma la sono spiegata come un essendo avendo creato lui il vuoto della terda avendo in lui tutti quanti i giganti allora può scegliersi il gigante dato che Armine è un colossale facciamo colossale colossale non torna neanche la roba che dici è il martello perché comunque avevano segato poco più no infatti un altro secondo grande buco di trama i giganti martelli i giganti prodotti dal martello poi sono degli involu che come se fossero fatti di argilla sono bianchi quindi è spettacolare visivamente parlando però sì allora ha qualche piccolo problema però io nella sua imperfezione l'ho trovato perfetto nel senso che chiude il cerchio in maniera meravigliosa qui sicuramente come tutti i finali non può essere perfetto perché poi riuscire a non perderti neanche un'unghia di quello della monumentalità dell'opera era impossibile qualcosa si è leggermente perso ed è sicuramente un problema sotto certi punti di vista però allo stesso tempo a me è piaciuto tantissimo innanzitutto il personaggio di Eren io ho visto che è stato molto criticato io non sono d'accordo nel criticarlo così espramente nel senso che lui per me oltre a essere il carnefice è contemporaneamente anche la vittima nel senso che questo ha perso completamente la brocca per due motivi il primo è che ha visto se stesso fare una cosa terrificante e il fatto di aver visto un futuro che non può cambiare rende superflua la motivazione tant'è vero che quando lui fornisce quelle che sono le motivazioni principali cioè sono tre le motivazioni l'ha fatto per loro l'ha fatto perché in realtà sotto sotto voleva livellare tutto e l'ha fatto perché è un idiota con troppo potere e quindi è schiavo della libertà alla fine lui è quello che più vuole la libertà ma è anche il meno libero di tutti perché lui non ha mai avuto possibilità di scelta per quella il fatto quando lui dice sono solo un idiota l'ho fatto forse perché volevo livellare tutto io l'ho inteso un po' come una spiegazione che si è dato lui perché lui aveva bisogno per non perdere completamente la testa di avere una spiegazione per fare quello che stavo facendo però la verità è che non c'è perché se tu vedi il tuo futuro non ha neanche senso chiedersi perché è una cosa che tu farai a quel punto lui ha cercato disperatamente di darsi una motivazione e io l'ho trovato molto patetico perché alla fine quando è in quella sorta di limbo con Armin lui torna a essere l'era anche sempre stato il coglione più agnucolone quello che lo rapivano ogni due per tre l'era anche abbiamo visto nelle ultime parti quello distaccato era una maschera che lui aveva indossato perché se non si fosse distaccato in quel modo probabilmente sarebbe impazzito e avrebbe forse fatto addirittura più danni quindi a me ha fatto pena a me ha fatto e lui è vittima ma neanche di se stesso cioè è vittima della circostanza perché alla fine è un burattino di Ymir cioè Ymir è questa ormai è diventata un'entità non è neanche più una persona perché comunque è scomparsa tanto tempo è rimasta nei sentieri Ymir è un'entità che per testare per vedere che esistesse qualcuno in grado di farle capire il perché per così tanto tempo era stata legata a un uomo orribile ha messo in piedi tutto questo ma in realtà rispetto a tutto questo di cui parli a parte volevo fare un appunto sulla volontà di Eren di farlo per i suoi amici quello è stato specificato più volte diciamo all'interno della narrazione che in realtà no cioè era solo una sorta di finta insomma lo dice lui stesso più volte viene ribadito questo concetto nelle battute quindi diciamo che possiamo solo delle motivazioni sì e in realtà però io vedo un filo conduttore rispetto a questa al concetto di libertà o meglio di schiavitù perché più volte viene ribadita questa cosa per esempio un altro personaggio molto schiavo diciamo del suo sogno era Erwin importantissimo e anche lui in un certo senso trova solo nella morte la liberazione dal sogno che lui voleva ottenere tant'è vero che poi c'è la battuta di Levi che dice ho fatto bene a scegliere Armin al tuo posto perché lui sapeva cos'era effettivamente la libertà e c'è questo dualismo tra il dare un senso alla vita saper dare un senso alla vita cioè i personaggi che ce la fanno sono quelli che danno un senso alla loro vita e poi ci sono quelli che inseguono i sogni un po' come anche è anche un po' metanarrativo perché lo stesso Isayama considera Eren l'ha detto in un'intervista schiavo della narrazione in qualche modo era quel personaggio che non riusciva mai a uscire fuori dalla narrazione e quindi io l'ho vista diciamo in più in questa in quest'ottica ecco vuoi aggiungere qualcosa? io aggiungerei che comunque i personaggi che inseguono il loro sogno nel fumetto sono tre quelli più perlomeno simbolici sono Erwin Zeke ed Eren Erwin Erwin e Zeke muoiono e prima di morire si accorgono della loro diciamo schiavitù prima soprattutto Zeke molto simbolico quando Zeke prima di morire dice se solo mi fossi accorto del tempo che mi circondava di ciò che mi circondava e Erwin invece ringrazia Levi quindi diciamo che al contrario Eren si discosta da questi due personaggi per essersi essere fino alla fine andato verso il suo il suo desiderio e in realtà questa declinazione di Eren non era stata ben intesa neanche da Isayama all'epoca che infatti non so se voi sapete la differenza principale che c'è nell'anime nel dialogo fra Armin ed Eren c'è una linea aggiuntiva di Eren c'è una linea aggiuntiva di Eren che è quella in cui dice che è un idiota nell'anime nel manga non dice minimamente una cosa di questa cosa anzi dice vabbè io l'ho fatto perché volevo farlo perché ha il flashback di Grisha che gli dice tu sei libero quindi il il c'è anche Isayama a posteriori dovendo dare un nuovo anzi potendo declinare il finale in un'altra ottica ha scelto di aggiungere questa frase per in qualche modo connotare il fatto che la 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 il la direzione verso cui stava andando Eren era quello della della follia per cui sì nell'anime è molto più esplicito diciamo l'autore nel senso io ho avvertito una cosa del tipo se non vi è stato chiaro nel manga perché poi ho visto discutere i fandom soprattutto su certe frasi di Eren io la metto ancora più metto ancora più in chiaro le cose e quindi ha fatto dire delle frasi entrambi i personaggi più esplicite in modo da diciamo avere un finale forse un pochino più più chiaro non so se a voi piace per esempio il fatto che magari sia rimaniamo forse a te Victor piaceva che fosse un po' più lasciata all'interpretazione sì io preferisco io preferisco di gran lunga quando una cosa non te la spiegano al 100% se possono farla cioè quando una cosa va spiegata è giusto che lo si faccia però ad esempio io ho fatto il paragone con la trattora di Inception non è importante sapere se cade o non cade il bello è chiedersi il perché cada o non cada ma non è necessario spiegarlo cioè è il bello del finale a me il fatto che in un certo senso non ci sia una spiegazione sola e non ci sia una spiegazione netta sul perché lui l'ha fatto e su altre cose a me francamente non dispiace poi che ci siano dei personaggi che sono stati lasciati un po' da parte è assolutamente vero quello ad esempio che diceva lei su Annie è verissimo ma anche Levi o Levi non so mai come pronunciarlo è un personaggio eh sì l'avete conto anche lì su questa cosa però io l'ho sempre pronunciato Levi perché comunque è come lo pronunciano nell'anima quindi lo pronunci così però è però se hai un sacco di gente ti fanno no non è Levi è Levi e basta vabbè però vabbè il discorso è che secondo me da grande personaggio comunque amato qual era si ha avuto il suo momento di gloria ha avuto il suo ruolo nel finale perché comunque è lui a decapitare Zik però comunque secondo me rispetto all'importanza che ha avuto per tutta quanta l'opera è un po' accostato è un po' messo al lato così come anche altri perché comunque al di là del combattimento quando poi finisce tutto abbiamo quel momento in cui sono tutti sulla nave il momento di Mikasa sul sotto all'albero e poi gli altri sono un attimino accantonati che è una cosa che può andare bene come no alla fine ognuno ha avuto il ruolo che doveva avere ognuno ha giocato le proprie carte e ci sta ecco il punto è che a me è piaciuto molto anche il fatto che fosse comunque un finale molto amaro nel senso che forse le persone volevano qualcosa anche qui di più netto cioè loro erano fatto quello che ha fatto tutti sono in pace fine e invece dopo due minuti vedi che riprendono comunque l'ostilità però alla fine loro sono riusciti bene o male tutti a morire di vecchiaia non sono morti in guerra quindi in un certo senso l'obiettivo è stato raggiunto perché comunque quando nell'anime fanno vedere che Mikasa è morta presumibilmente di vecchiaia quindi è morta nel suo letto si può pensare per cui alla fine Eren un po' ha ottenuto quello che voleva i suoi amici sono sopravvissuti se non avesse fatto quello che ha fatto probabilmente sarebbero morti in guerra non ci sarebbero sicuramente arrivati quindi da quel punto di vista ci può stare però c'è una cosa io questa cosa la chiedo magari se non me la sono persa io ma a un certo punto si vede Armin sulla tomba di è l'ultimo a morire ma non doveva cioè non aveva non aveva una scadenza Armin avendo il gigante eh no perché si è scioglato però perché anche qua quindi annullandosi il potere non muoiono neanche più dopo ma lo dicono anche si annulla tutto è vero è vero ok ma io vedevo che l'aspetto prima comunque scuoteva la testa volevo capire quando ho parlato Victor l'ho vista contrariata no no e ho la resting bitch face quindi è un po' sembro sempre un po' incazzata ma non è vero no allora in realtà ci sono un paio di cose che non perdono che riguardano Levi proprio perché per il fatto che comunque ero un personaggio importante allora premessa io l'avrei lasciato morire poco prima cioè un po' di puntate prima in realtà quello è accanimento terapeutico per quanto mi riguarda perché ho capito che era necessario dargli un finale con Zeke e dove o tutti e due o Zeke doveva morire cioè era chiaro che il vincitore in qualche modo doveva essere Levi e mi stava anche bene solo che in questa maniera è un po' il discorso che facevo prima di Flock tu mi hai tirato avanti un personaggio un po' inutilmente e in più io ho trovato allora tante morti in Attack on Titan sono anticlimatiche perché sono anche più realistiche perché in un momento stai facendo amicizia con un personaggio e in un momento dopo te lo ritrovi spiaccicato da un gigante e va benissimo cioè è una delle cose che mi piace di Attack on Titan però eravamo arrivati ad un punto dove un personaggio molto importante stava avendo comunque un'evoluzione un po' tipica anche un po' lontana dal tipico sistema di Zayama che ti fa schiattare un personaggio dalla sera alla mattina e ci poteva anche stare perché comunque si trattava di Levi un personaggio chiave che non aveva ancora esaurito completamente la sua funzione quindi questo lo potevo anche accettare non stati andasse contro una cosa che mi piaceva ovvero il fatto di far crepare insieme a Zeke non mi è piaciuto il fatto che non sia morto prima a me non è piaciuto il fatto che ci sia stato quello scontro così forte che sì anche per me doveva morire lì è quello il punto cioè fatemelo morire o insieme a Zeke o magari quello scontro me lo spostavate un po' più avanti e me lo lasciavate in vita però tu che me lo ritrovo tutto rattoppato con il rancore in corpo che non sa neanche dove sfogarlo sto rancore e mi ammazza Zeke in due secondi con lui che diceva qui dai veloce perché dopo anche le caramelle ai bambini non lo so quello l'ho trovato un pelino anticlimatico e secondo me c'è stato proprio un accadimento nei confronti di quel personaggio anche un po' fanservice che ci può stare perché comunque molto amato e nessuno lo voleva veder morire poi io sono una persona drammatica in questo senso per quanto io amo i personaggi se muoiono in maniera gloriosa io sono anche più contenta piuttosto che tenerli in quelle condizioni per citare Naomi in Metal Gear ridotto a un povero mutilato questa cosa non lo so non l'ho apprezzata più di tanto poi vabbè per carità è vivo sono anche contenta un po' storto però mi va benissimo che le cose vadano così tendenzialmente ma comunque è vero che sto dicendo solo queste corna di sto finale però giuro che mi è piaciuto senti ma cosa ti è piaciuto del finale? no allora anche io ho preferito la non spiegazione e il fatto che non sia troppo cisi io infatti stavo un attimino spaccendo allora il manga è ancora più ermetico ma ermetico ma ermetico del tipo ma questo qui vuole dire che Eren ha fatto tutto per fatto è un santo cioè c'è questo momento in cui pensi vedendo Armin ringraziare Eren io quando lessi la prima volta il 139 mi stavo domandando sulla sanità di Sayama cioè perché davvero nel all'epoca del finale della rivista il le parole che utilizzava Sayama erano molto equivoche perché nell'anime voi non l'avete visto il finale non l'avete letto il finale del manga però nel manga Eren non dice di essere un idiota sì questo lo sapevo no ma io ho recuperato anche un paio di stralci per per arrivare per arrivare poi riporterò alcuni errori di traduzione nei sottotitoli perché forse qualcosina è arrivato male con l'anime ti dico allora la cosa che non ho apprezzato cioè che ho apprezzato tantissimo è proprio il fatto che nonostante tu mi stai facendo vedere che tutti quanti sono sopravvissuti contemporaneamente vediamo una dittatura che si sta creando un culto su Eren che non piace nemmeno così tanto ad Armin cioè io ci ho visto un po' di amarezza nelle sue parole cioè loro lo ricordano e sanno uno dei motivi possibili per cui ha fatto una determinata cosa senza contare che comunque c'è l'amore e l'affetto nei suoi confronti e del motivo per cui sono legati a loro però il fatto che ci sia una sorta di culto nei confronti di Eren io l'ho visto fatto passare come qualcosa di non proprio giusto fino alla fine e va bene cioè è una cosa che io ho gradito perché che cosa si sta facendo siccome l'essere umano di base è uno schifo che non impara mai dei propri errori cosa succede ritroviamo di nuovo le fazioni che si creano è la dittatura è un nuovo nemico con cui prendersela poi ci sono i titoli di Kodak che secondo me sono fra le parti più belle di tutto l'anime dove di base ti rendi conto che non è cambiato niente e va bene anzi è peggiorata la situazione se vogliamo stare a guardare le atomiche e la cosa è molto positiva perché tu così mi stai facendo mi stai passando il messaggio che non ne è cambiato nulla ma per dire che non dovrebbe andare così che in realtà le cose dovrebbero andare in un'altra maniera l'ho preferito al finale più formaggioso che magari molte persone volevano di amore e felicità no è ottimo così poi se vogliamo parlare dell'ultimissimo frame quello del bambino che entra in quello che somiglia all'albero dove è finita Ymir io posso parlare anche di ciclicità o la storia ricomincia oppure hai un'altra occasione per poter cercare di portare l'ordine del mondo c'è un minimo di positività un minimo di giustizia e non ripetere sempre gli stessi orri di prima cioè io l'ho vista così ecco quello è l'unica l'unico concetto di ciclicità che a me non è piaciuto che sia stato reintrodotto cioè che le guerre si ripetono nella storia dell'uomo eccetera eccetera lo trovo molto umano molto realistico e quindi comunque narrativamente per me va bene l'unica cosa è che la storia dell'attacco dei giganti parlava di spezzare questa ciclicità quindi almeno nell'ambito dei giganti avrei preferito un non ritorno visto che il gufo ha detto Grisha vai e fatti una vita perché così spezzi la ciclicità e forse Grisha ha Eren che dice devi spezzare questa questa catena di qualcuno insomma qualche personaggio dice devi spezzare e non me lo ricordo adesso quale personaggio però comunque più di una volta insomma ci sono diversi personaggi che si riferiscono al fatto di spezzare questa ciclicità quindi il fatto che l'abbiano l'abbiano reintrodotto a questa specifica specificità a me non è ciclicità a me non è piaciuta sì quando poi nel senso il scusate se vi interrompo quando nel il centro principale del del mi fai su qualche video 139 però nella seconda parte dell'episodio la parte dell'episodio che si riferisce dal 139 è i Mikasa le decisioni di Mikasa hanno portato alla scomparsa del potere dei giganti quindi rintrodurre cioè comunque fa dare l'impressione che l'immagine dell'albero di Ymir mi è sembrato un po' come come se questa cosa togliesse importanza valore narrativo appunto quello che vediamo prima nel capitolo mi viene da dire che Isayama non avesse ben chiaro in mente quale tono messaggio far passare al lettore però io invece l'ho vista più come un Ymir ti ha voluto dare un'occasione e te la sta dando di nuovo come la come la sfrutti cioè io l'ho vista più così che come un deve per forza ricominciare tutto quanto da capo ma più che altro secondo me il punto non è tanto quello perché siccome il ciclo è stato spezzato perché i giganti erano qualcosa che esisteva per quello che aveva nel cuore Ymir lo dice proprio a un certo punto quello che il bambino potrebbe trovare lì dentro non si sa cosa sia cioè probabilmente è ancora la lucigenia per amor di Dio però anche lì quello è coerentissimo col discorso che fa Zik che dice che la vita tende sempre a riprodursi che è il discorso di Jurassic Park la vita trova sempre un modo cioè è esattamente quello rifilato un po' su quindi e mi hanno anche fatto notare una cosa Ymir cadeva nel buco nell'albero in seguita dai cani qua il bambino ha un cane come compagno quindi non è braccato il cane c'è un'evoluzione quindi non è assolutamente detto che nel momento in cui il bambino dovesse cadere e trovare l'occigenia genererebbe i giganti potrebbe generare qualcosa di diverso e questo è il fatto è l'unica cosa positiva è l'unico spunto positivo per il futuro dell'episodio se vogliamo andare a vedere come sono stati utilizzati i giganti Ymir fosse stato per lei non sarebbe andata così di base lei è diventato uno strumento di Re Fritz quindi non è detto che vada a finire sempre allo stesso modo proprio perché magari il bambino è da solo magari il bambino in un contesto diverso noi non lo possiamo tra l'altro molto della stovasco la scena tra l'altro noi non lo possiamo sapere anche per il fatto che c'è quel dettaglio che spiegava prima Mattia cioè il fatto che questa volta il cane è un compagno potrebbe anche voler dire che questo bambino magari ha il potere dei giganti e non si sviluppa mai lo si utilizza per altri scopi più positivi non è detto che debba per forza finire come è andata con con Re Fritz che di base quando è morta Ymir l'ha fatta mangiare alle figlie per poter sviluppare sì sì perché di base il motivo per cui i giganti sono diventati un'arma è perché Re Fritz li ha fatti diventare un'arma se ci pensiamo quindi non è detto che vada a finire nella stessa maniera certo è un'occasione ma è detto che siano giganti come li conosciamo potrebbe essere qualcosa di diverso questo è il fatto è un'occasione nuova ok però non sappiamo la lucigenia come si sia evoluta in quelle in quelle migliaia di anni può anche darsi che il potere che dà non sia più quello dei giganti poi tra l'altro io ho anche ho anche pensato una cosa quello che abbiamo visto è un ciclo o era il primo ciclo cioè a me ha dato anche l'idea che questa cosa si potrebbe essere ripetuta cioè che noi abbiamo visto solo una delle volte in cui questa cosa è successa cioè mi ha dato l'idea che magari era la quinta o la sesta volta che accadeva quindi è un tema molto caro Isayama per il fatto che lui è molto legato a Mav Love questo videogioco che si basa proprio sulla ciclicità e sul tema della scelta quindi a ogni scelta che effettua un personaggio può diciamo diramarsi un futuro diverso e poi volevo aggiungere anche al discorso che hai fatto tu sugli esseri viventi che è proprio la caratteristica insita nell'essere vivente di moltiplicarsi di portare avanti la specie che secondo me è un tema che va diciamo un po' di pari passo invece con la tematica della libertà cioè da una parte abbiamo gli esseri viventi che cercano la sopravvivenza in tutti i modi possibili quindi la lucigenia Imir che comunque anche lei in qualche modo si unisce alla lucigenia in simbiosi per diciamo la sua sopravvivenza quindi dal loro istinto nasce questo potere dei giganti poi c'è anche un po' di mito chiaramente quindi tra mito e realtà diciamo però dall'altra parte c'è chi in realtà dà un senso diverso alla vita che sono quei personaggi che in qualche modo nell'attacco dei giganti trovano quello che io considero la vera libertà cioè la libertà di vivere la propria vita accettandone anche gli aspetti più crudeli quindi personaggio principale Mikasa che nel finale appunto in questo modo in qualche modo fa vedere a Ymir come può lei trovare la sua libertà cioè liberarsi dal sogno liberarsi dal sogno che aveva Ymir dell'amore perché in fondo Ymir era innamorata dell'amore non di Fritz perché comunque si vede che era insomma una persona malvagia diciamo però perché lei era così legata perché lei in qualche modo aveva un po' idealizzato il personaggio perché voleva l'amore infatti si fa anche vedere nel finale Ymir che dà uno sguardo alle figlie invece che al re per far vedere come lei a un certo punto tramite Mikasa anche Mikasa deve accettare una realtà molto crudele ma nello stesso tempo bellissima come dice nella battuta perché lei a quel punto accetta la realtà e decide di vivere non nel sogno dove scappa fugge via da tutto questo con Eren ma sceglie di vivere la realtà e quindi diciamo di affrontare questa cosa anche se poi vabbè chiaramente sì poi finisce l'episodio e c'è lei che sta ancora sotto l'arbero vabbè ma lì è perché stava dando il vero addio lì anche lì vuole sottolineare il fatto che comunque lui la proteggerà sempre anche qualcosa anche la si è anche riparta la vita povera donna sì però comunque lì su diciamo per quel che ci viene mostrato di Mikas alla fine libera fino a un certo punto vabbè sì quindi è un'altra cosa che per me è stato un po' un peccato perché ce la stava facendo però senza Eren se ci pensi alla fine lei viveva un po' in funzione di lui ma non tanto perché è come si suol dire succube perché comunque lei è viva grazie a Eren sostanzialmente quindi lei ha sempre dovuto in un certo senso qualcosa a Eren simbolicamente essendo un Ackerman poi era ancora più subordinata a lui però a me è piaciuta anche la questione dell'uccello che mi hanno spiegato che si chiama tipo Paricalis Eren Jäger quello che gli sistema la sciarpa che è come se fosse una sorta di presagio del fatto che lui comunque sarà sempre lì però comunque alla fine ti fanno capire che lei una vita se l'è fatta cioè magari sicuramente non avrà mai smesso di amare Eren si vede l'anello al dito quindi sì sì ma si capisce che lei sarà sposata e accade esattamente quello che lui le dice di fare trovati un altro uomo e dimenticami con la differenza che secondo me non l'ha mai dimenticato come fai obiettivamente nonostante poi io ho sentito molti che dicono però sembra quasi che vai a giustificare il genocidio di Eren io non ho visto giustificazioni al genocidio di Eren nell'anime non tanto nell'anime non tanto nel manga non lo so nel manga sì nel manga è quello che stavo dicendo prima perché c'è Armin che sì quella scena l'ho vista perché ero curioso però però nel senso dal punto di vista di Armin è logico che lui dice ok ringrazia per averli risparmiati in un certo senso però io quella fase non l'interpretare come bravo che ha ammazzato l'ottanta per cento dell'umanità è l'amico perché poi qui hanno fatto questa cosa che a molti non è piaciuto di Armin che cerca di dividere la colpa dicendo però io ti ho mostrato il libro che mostra il mondo esterno a molti questo non è piaciuto a me sì perché lì è proprio l'amore fraterno che Armin prova nei confronti di Eren per me anzi per me è molto bello perché gli vuole talmente tanto bene che non riesce a sopportare l'idea che lui se ne va dall'inferno con il cento per cento della colpa ha bisogno di dirgli ce la dividiamo al cinquanta per cento così non sei solo così alla fine all'inferno ti raggiungo anch'io capito io su questa anche una teoria perché precedentemente in una delle analisi uno youtuber giapponese che penso sia proprio la persona più importante nell'ambito insomma dei youtuber che parlano di lui parla solo di quello disse proprio fece questa osservazione sul fatto che fosse bello che Mikasa per alleggerire le colpe di Eren si fosse posta come colpevole anche lei io ho questa teoria che Isayama potrebbe averlo ascoltato e esserselo riprenduto o comunque qualche animatore insomma perché comunque lo vediamo nell'anime anche se sappiamo per certo che l'autore è molto intervenuto su questo finale tra l'altro lo vediamo comunque nel proprio secondo me sono anzi questa cosa l'avevo osservata che sono proprio battute meta dell'autore stesso che ha cambiato mille volte idea cioè lui prima ha fatto un capitolo sul besazzo cioè sul magazine poi ha fatto uscire otto pagine in più poi l'ottopagine in più che andavano a modificare il senso del capitolo perché l'ottopagine in più si collocavano erano alla fine la maggior parte di queste era alla fine del capitolo e sono quelle in cui si vede la distruzione di Paradi nel corso dei secoli l'albero di Ymir quindi diciamo che andavano a modificare il senso del capitolo che in un primo momento era finiva con la speranza che nel futuro si ci potesse capire ed era più Shingeki no Kyojin era più Isayama questo finale però andava un po' in contraposizione con il tono delle pagine precedenti delle tabelle precedenti e quindi anche in questo caso Isayama secondo me non era proprio ben chiaro cosa volesse raccontare con l'ultimo capitolo come volesse terminare con quale messaggio volesse arrivare al lettore e poi questa ecco conclude il discorso che hai iniziato tu il quando Eren dice che vuole modificare il futuro no? si avendo l'occasione di modificare ulteriormente il finale utilizza l'anime e fa dire ad Eren ho visto il futuro ho provato a modificarlo tante volte però non ce l'ho mai fatta quindi è molto metanarrativo questa frase secondo noi si è molto c'è molto di questo è da un dato rifatto in Shinkeki no Kyojin c'è tantissimo di Isayama in Eren c'è moltissimo di Isayama Eren cambia capiatura a seconda della capiatura di Isayama quindi si può dire che l'alter ego di Isayama in Shinkeki sia appunto Eren che da un lato vuole distruggere il mondo dall'altro invece si sente un un idiota quindi questa rappresentazione mentale di Isayama viene sempre più approfondita nel corso dei vari finali prima di arrivare a quelli in cui prevale il vabbè sei un idiota un idiota con un immenso potere però a me piace molto anche questa il fatto come torni un po' tutto nel senso che lui aveva diciamo che lui aveva detto che avrebbe distrutto tutto finché non fossero rimasti più giganti cosa che di fatto ha fatto però la cosa bella è che questa cosa la dice perché lui cambia nel momento in cui muore la madre e qui scopriamo che la morte della madre la causa lui stesso quindi è è un cane che si morde la coda alla fine è lui è lui che è totalmente schiavo di se stesso lui c'è se schiavo della libertà però alla fine è talmente lui vuole talmente tanto la libertà da far perdere significato a questo a questo suo scopo infatti è come dicevo prima la persona il personaggio meno libero di tutti è quello che veramente non può far nulla addirittura ha causato lui stesso la morte della madre che lo ha portato a volere vendetta sul mondo intero quindi si è creato da solo sostanzialmente è terribile questa cosa è per questo che ho detto molti mi hanno detto ma tu giustifichi erano io non lo giustifico è ovvio che è quello che ha fatto è terribile tra l'altro nel manga non faceva un riferimento proprio specifico non dice la parola ok che la fa mamma madre ma lo invece lo faceva capire lo faceva capire era sottinteso invece nell'anime viene detto ci sta è bello perché è molto bello perché lui è una vittima cioè non è solo il carnefice è entrambe le cose perché io quando l'ho detto mi ha detto come vittima ammazzato il mondo sì certo che l'ha fatto ok però lo ha fatto perché non poteva fare altrimenti cioè deve essere terribile poi oltretutto c'è un altro motivo perché lui è andato fuori di testa perché lui a un certo punto vede il tempo e simultaneamente Isayama l'aveva detto che comunque una delle sue maggiori fonti di ispirazione era Watchmen e quello che fa Eren è quello il dottor Manhattan vedeva passato presente e futuro insieme ma soprattutto il finale di Attack on Titan riprende un po' quello che fa Ozzy Manjia in Watchmen non è così diverso quello che viene fatto in Watchmen sul finale più sul fume più nel fumetto che nel più nel graphic novel che nel film perché nel film avevano dovuto ma nel film secondo me quel cambiamento l'avevo introdotto perché se fosse successo come nel fumetto mi sarebbe alzato a me e sarebbe andato perché a mettere metterlo in scena in una in un film sarebbe stato assurdo questa cosa l'ha ripresa nella serie ma prima di arrivarci te la preparano in un film di tre ore una roba del genere non potevi prepararla cioè era impossibile non dovevi dedicare mezz'ora solo a quella cosa lì quindi però è molto simile quello che fa Ozzy Manjia rispetto a quello che fa Eren non è tanto diverso poi ovviamente Isayama la fa un po' sua però si vede che l'ispirazione è quella secondo me la più volte dichiarata la sua ispirazione la più volte dichiarato che sì 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 ma lui non ha mai nascosto nessuna delle sue ispirazioni sì però lui è tipo Tarantino è uno di quelli che prende qua e dirà però poi quando le assembla sono tutta un'altra cosa sono molto hanno tutta una cioè le fa sue non si limita a copiare quindi è un po' il suo bello sì sì tra l'altro il personaggio di Erwin dovrebbe essere dovrebbe aver preso molto da Ozzy Manjia così come parla anche nell'intervista di Levi non specifica quale dovrebbe essere il corrispettivo in Watchmen però suppongo che sia Robshawk non lo so però allora oddio beh Levi non lo so a dover guardare secondo me ha un po' più del gufo notturno non lo so il gufo è un po' più su certe cose dimesso è più dimesso fino a un certo punto poi a un certo punto cambia come personaggio quindi quando accetta di essere il gufo notturno e torna cambia un po' per personaggio che è Levi però secondo me sì forse sì forse è più armi il gufo notturno in effetti non lo so perché Robshawk era un po' più Levi non è proprio così Robshawk è Michele però è più è un senso come idea come ispirazione originale da cui poi viene magari sì perché in realtà il personaggio di Levi è nato come uno stereotipo da far piacere alle ragazzine quindi e poi ha preso insieme più ispirazioni le ha messe in un pentolone ed è uscito Levi che chiaramente non è uno stereotipo per le ragazzine in definitiva è diventato un personaggio con la sua identità questa è una cosa che comunque lo distingue dall'archetipo da cui proviene sì sì ci può stare poi vabbè il personaggio di Levi ripeto magari nel finale non è così incisivo però comunque per il resto dell'opera è un bel personaggio ma in realtà a maggior ragione non me lo portare fino alla fine proprio perché è così importante poi dipende cioè tu prima parlavi di Flock cioè a me Flock ad esempio come personaggio è piaciuto proprio perché quando un personaggio lo detesti così tanto vuol dire che l'hai scritto bene sì sì perché voleva essere quello alla fine il punto non è a me non piaceva Levi infatti e il punto non è farmelo detestare che a me ci sta anche cioè va benissimo che un personaggio funziona proprio perché è odioso però a un certo punto anche lui aveva esaurito molto prima la sua funzione doveva essere levato dalle pale prima secondo me esattamente come Levi e con tutto che Flock a un certo punto era veramente diventato insopportabile e Levi magari mi sarebbe anche dato bene un finale un pochettino più dignitoso per lui che da tradursi in morte nel mio caso e però vabbè magari sono io che sono troppo drammatica avrei voluto un'uscita un pochettino più spettacolare per quanto riguarda questo personaggio in particolare lo scontro con Zeke che è stato un po' buttato lì nel mezzo ecco mi sembra che l'abbiano trattato così non per renderlo ad effetto ma per mancanza di tempo che ci può stare tu hai magari un tempo limitato e quindi la risolvi in questa maniera esattamente come la spiegazione di Falco che diventa Falco però quella era una cosa un po' meno spoiler per i giapponesi perché per loro non è così scontato tant'è vero che poi è più la trasformazione in questa nuova tipologia di gigante che a quanto ne so nel manga so che ci sono accenni ad altri tipi di giganti viene detto una volta da un generale ma non c'erano i giganti che volano una volta però qui però qui no cioè non me ne hai mai parlato e salta fuori che guarda un po' questo personaggio ah bah ci siamo ricordati che può volare però questa cosa qui è un po' troppo comodo sono d'accordo sì sì è comodissima questa cosa innovativamente quindi posso dire che lo accetto un po' di più del casino che hanno fatto con Annie perché abbiamo capito che avevi poco tempo ho usato la sospensione dell'incredulità per altre cose la uso anche adesso figurati non è un problema cioè per me i problemi paradossalmente veri sono prima di questo finale non nel finale cioè a me è piaciuto il fatto che di base Armin non sia completamente condiscendente con Eren che addirittura hanno anche cambiato un particolare rispetto al manga visto cioè che se Eren è in mezzo è una distesa di frattaglie e schifo e resti umani nel manga se non mi sbaglio sono sulla sabbia che è molto diverso non c'è il schifo più bello secondo me è lui che tira fuori che il misto capelli ossa sangue perché io l'ho vista come una metafora del fatto che lui ce l'ha addosso il peso di tutte le persone che per nell'anime c'è un po' più di giudizio morale nei confronti della strage insomma ecco quello a me è piaciuto molto perché non ti fa passare quest'uomo come uno stragista a caso neanche lui l'ha capito veramente il perché ha fatto quello che ha fatto perché è talmente intrappolato in questo questa poca distinzione fra passato presente e futuro che neanche lui si ricorda cioè all'inizio si dà un po' la scusa del ah no l'ho fatto per voi poi ci riflette dice non è così ma se l'ho fatto per voi perché alcuni di voi sono morti lui è portato a scarpare perché lui dice io l'ho fatto per voi però è morto flock è morta angi sono morte persone per colpa mia quindi l'ho fatto veramente per voi è un po' questo c'è capito non c'è una a me non mi spiace che non venga spiegato proprio perché possiamo ridurre tutto quanto alla banalità del male e cioè avevi fin troppa libertà che nel pensare di fare la cosa giusta hai perso di vista l'obiettivo e non ti sei neanche più reso conto di quanta gente stavi facendo fuori e a me va benissimo questa cosa qui le problematiche vere se mettiamo da parte i vari flock che diventano falco a caso no non è a caso vabbè senti dai non è a caso nell'anime è a caso non me l'hai mai detto che c'era non è vero no no non è a caso non è vero te lo dicono ma te lo hai spiegato ascolta è buttata in maniera molto conveniente lo posso dire allora sia un Deus Ex Machina siamo d'accordo però perdonami a un certo punto nelle parti precedenti veniva detto chiaramente che i giganti erano lì per diventare obsoleti perché stavano costruendo nuovi macchinari però rientra tutto nel discorso che dice Zeke del fatto che la vita si riproduce che c'è sempre l'evoluzione in quel momento nel momento in cui stanno creando delle macchine volanti per distruggere i giganti i giganti iniziano a volare è l'evoluzione non solo aspetta ma non solo ma poi si chiama falco ma ho capito però dai ma no ma sì che ma no è quello il punto ma è nata contente a nome nomen omen sempre cioè quindi per me è plausibile ma va bene infatti me l'aspettavo che prima o poi sarebbe successa una cosa del genere perché te l'aspettavi perché si chiama falco e perché abbiamo visto che i giganti prendono le caratteristiche del portatore quello che contesta è la tempistica non è tanto è un Deus Ex Machina è un Deus Ex Machina però scusate però scusate quando è che ti va fuori nella banalità però quando è che tira fuori è vero però quando è che tira fuori la caratteristica nel momento in cui serve quindi non è neanche caso ho capito Mattia ho capito Mattia però ascolta non ho detto che schifo ho detto è un Deus Ex Machina un po' troppo comodo come ce ne sono stati altri prima però come ho accettato gli altri accetto questo dico soltanto cioè va bene ma perché dov'è che devo no 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 ci sta eh però tu hai detto che a caso non è a caso dai è a caso è a caso è conveniente dai non è a caso è conveniente è proprio un Deus Ex Machina che ti fa fare vabbè vabbè ok lo accetto abbiamo accettato quello del Signore degli Anelli accettiamo anche questo ma infatti ma infatti non contesto questa cosa qui cioè per quanto mi abbia fatto fare ah va bene non è quello che contesto cioè i veri problemi sono prima cioè io non a caso stavo per droppare questo anime molto prima perché c'è stata una cosa in particolare che mi ha fatto veramente fare così no ok che è quella di che è la questione di Annie che mi ci sto impuntando tantissimo perché mi dà mi dà fastidio è un'occasione persa ma perché no è un'occasione persa ma la potevi costruire bene mi potevi approfondire ancora di più un personaggio che era importante che non si è capito bene che relazione abbia con Armin che si fanno sempre questi sottotesti maledetti i loro due si capisce che vi piacete tra l'altro Armin ha rubato tutto a Bertold mi ha rubato il gigante tutto 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 il possibile gli ha rubato mamma mia era lì per rubargli la ragazza anche quindi vabbè o meglio l'interesse romantico perché non è che ci sia una relazione particolarmente esplicita in questo senso però ora per dare un giudizio finale a tutto a me onestamente è piaciuto tanto proprio perché non ti sta ad imboccare cioè a me il finale dove ti prendono e ti imboccano mi dà fastidio voi mi avete detto che anche la questione della madre nel manga è accennata è suggerita ma non è esplicita no non c'è problema proprio la madre per quanto mi per quanto mi sia piaciuto mi sia piaciuto questa spiegazione io forse qualcosa di un po' più velato l'avrei preferito ma solo per gusto mio personale così va già bene fosse stato velato mi sarebbe venuto quel brividino lungo la schiena che che era lo stesso che mi è venuto quando in una vecchia puntata nella credo seconda stagione non ricordo bene Imir trova le scatolette con sopra la lingua di Marley io lì ho detto aspetta cos'è sta roba una brava linguista cos'è sta roba che tra l'altro vabbè io poi mi faccio le pippe mentali che dicono sì ma i Marleyani non dovrebbero avere una lingua un po' diversa rispetto agli Eldiani perché erano lingue però sono io mi faccio le pippe mentali come al solito ma quella sono io no però vi dico bello ed è stata la chiusura migliore che potevano dare quindi allora visto che siamo in chiusura una domanda veloce veloce entrambi io ci tengo molto alla questione del rito di passaggio Isayama ha definito l'attacco dei giganti chiedo scusa la chat se riciccio fuori questa cosa perché è un meme il fatto che io ci tengo a dire che l'attacco dei giganti è un racconto di riti di passaggio e ogni personaggio diciamo bene o male quando compiva il suo rito generalmente o veniva fatto fuori o passava in secondo piano allora ci sono personaggi che concludono secondo me il loro percorso e c'è chi non lo fa secondo voi chi lo ha fatto di più cioè chi ha compiuto il rito di passaggio alla fine di tutta questa storia di più degli altri e chi non l'ha fatto beh Armin secondo me è al primo posto Armin ne ha fatto più di uno di rito di passaggio cioè è passato dall'essere il detentore della giustizia totale a tutti i costi a diventare anche un bastardo che ammazza i propri compagni quelli che erano i propri compagni a tornare ad essere una persona che tiene al bene degli altri al diventare semplicemente umano ad accettare il fatto che comunque lui non è che non vale niente cioè il momento in cui lui parla con se stesso nei sentieri è forse la parte migliore del personaggio è il momento migliore del personaggio ed è l'ultimo rito di passaggio che lui fa che abbraccia completamente quello che lui è con le sue luci e le sue ombre lui è quello che ha fatto lui ha uno degli archi narrativi migliori seppur con qualche forzatura qui e là tipo la questione del titano che lui del gigante che lui acquisisce l'accetto e non l'accetto e va bene però me la faccio andare bene anche quella non è un problema e lui secondo me è quello che ce la fa quello che è stato gestito meno bene proprio lì vai per quanto riguarda la questione e Annie che vabbè l'abbiamo già spiegato però sì loro due secondo me sono stati quelli trattati un po' peggio nella parte finale però Armin è quello che aderisce perfettamente a questo tipo di poetica secondo me Armin Mikasa e Rainer tantissimo perché comunque Rainer tra l'altro è uno dei pochi che è stato trattato veramente bene tra i secondari qui anche per il fatto che lo fanno ricongiungere alla madre che capisce l'errore quindi lui ha avuto una chiusura bella bella piena secondo me Levi l'ha fatto il rito di passaggio però forse a me è piaciuta la scena in cui saluta gli altri gli altri compagni però è un filo di la scarica si poteva anche evitare secondo me però è una bella scena d'impatto solo che secondo me il rito di passaggio lui l'aveva già compiuto prima siccome questa puntata non aggiunge granché a Levi secondo me quelli che hanno avuto più il rito di passaggio sono questi perché io sono d'accordo con la Svet Annie un po' così ecco sai chi anche Falco e Gabi Falco e Gabi sono altri due che hanno chiuso un cerchio sono anche più giovani quindi erano più pruvenzi sono anche sono la speranza del futuro li vediamo alla fine che probabilmente adesso io non fa anche capire che probabilmente si si sposeranno a me ha dato quell'idea lì mi fa capire che sono un attimo uniti comunque sono più che amici però sono un po' la speranza è il simbolo della speranza dell'umanità del futuro un po' come anche il bambino alla fine alla fine sono un po' i simboli di questo futuro che comunque per quanto sia devastato dalla guerra ha sempre qualcosa di vitale che sopravvive cioè il finale ti dice che sì è vero gli umani saranno sempre in guerra però la vita ci sarà sempre ricanciandosi col petto zi e anche zik secondo me ha fatto il suo rito di passaggio completo perché comunque prima di sacrificarsi riesce a mettere ordine nella sua testa e capisce che il genocidio programmato che aveva pensato era qualcosa che era una buona idea ma non si poteva applicare molto semplicemente assolutamente sì è un bel rito di passaggio quello di zik cioè la scena con armin che tira che tira fuori la sabbia la foglia lui la vede come la palla della baseball è bellissima così come anche è molto bello il momento in cui armin tira fuori dall'acqua sanguinolenta la conchiglia laddove era e tira fuori la polpiglia di esseri umani quindi tira fuori il peggio della situazione armin tira fuori una cosa bellissima anche quella è una cosa molto simbolica molto meglio che è secondo me sono questi personaggi che hanno avuto più di più di questo finale altri ce l'hanno avuto prima in un certo senso aperta hanno dato un po' di giustizia a povero Bertolt che veramente povero poverino di tre caccomali poveri con la realtà che indagiamo che gli è dispiaciuto non trattarla abbastanza a un certo punto a un certo punto mi è venuta a dire dategli anche un colpo di remo qui io ho una domanda però per voi due è perché allora ma Isayama se non so conto che a un certo punto Bertolt lo confondevamo con Marco perché era lo stesso personaggio all'epoca in realtà un po' tutti i personaggi si confondevano perché avevano poi un taglio di capelli molto simile quindi nel nuovo Bertolt in particolare non era così brava a disegnare quindi li facevano tutti un po' simili ma avevano anche quasi lo stesso doppiatore cioè non sapevo chi era poi c'è da dire una cosa sei stata molto gentile nel dire che non sapeva disegnare molto bene perché secondo me era veramente un cane però lo dicevo domenico l'altro giorno forse proprio per questo fatto i giganti erano particolarmente spaventosi all'inizio poi dopo anche dopo ma all'inizio siccome disegnava veramente disegnava male cioè quando tu pensi a un mangaka non pensi a dei disegni così brutti ma paradossalmente erano talmente brutti i disegni che erano efficaci perché era tutto squallido i disegni erano ancora più squallidi della situazione io ero lì che leggevo dicevo io stavo sulle pagine a guardare e ci ammazza come disegna male però allo stesso tempo io mi ricordo quel gigante che poi scopriamo essere molto più avanti di una frizza io quella tavola ce l'ho stampata qui a fuoco era spaventoso era terribile proprio perché era brutto il disegno era grottesco e quindi funzionava tra l'altro Dina Frizz la donna è con meno rancore dell'universo va a mangiare bene ragazzi allora siamo in chiusura noi vi ringraziamo per essere stati con noi stasera è stata una bellissima chiacchierata e quindi grazie noi ci aggiorniamo per i prossimi appuntamenti in live e niente grazie adesso vi seguo non vi ho seguito tranquilla venerdì siamo di nuovo in live grazie Victor grazie Svet grazie mille ragazzi bellissima discussione e grazie a tutti sì veramente mi è piaciuto molto grazie grazie a tutti grazie a tutti ciao 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 ciao